Salve e benvenuto a questa lezione sull'utilizzo del questionario in cui andremo a vedere come introdurre risorse esterne. Spesso chi sta ripassando una materia facendo un questionario può avere necessità di dover tornare ad approfondire o a rivedere un concetto e quindi introdurgli qualcosa da cui può rapidamente raggiungere l'ambiente in cui troverà tutte le informazioni di cui ha bisogno può essere molto utile al fine di far perdere il meno tempo possibile al nostro studente. Quindi è prevista questa cella per ogni per ogni domanda sotto la colonna link a risorse esterne. Andiamo a scrivere la parola approfondimento e dopodiché ci riposizioniamo sulla nostra cella, clicchiamo con il tasto destro del mouse e andiamo a dire a scegliere l'opzione collegamento. Ora io ho già cercato un collegamento, il governo federale degli Stati Uniti, andiamo qui, selezioniamo questo link internet cliccando due volte con il tasto sinistro del mouse, ctrl c, lo copiamo, alt tab, torniamo di qua e lo andiamo ad incollare con ctrl v dentro questo spazio indirizzo. Clicchiamo su ok, salviamo e a questo punto possiamo vedere che il nostro studente nel momento in cui vorrà riapprofondire il concetto di forma di governo non dovrà fare altro che cliccare su questo link che lo indirizzerà automaticamente alla pagina in cui noi abbiamo voluto che lo rindirizzasse. Ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!